Un posto caratteristico pieno di piccole, discutibili opere d'arte. Un posto caratteristico pieno di piccole, discutibili opere. 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 E una volta mangiato il piscetto torneremo in albero e osserveremo il cielo che pare essere stellatissimo. Un posto caratteristico pieno di piccole. 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.